Prestigioso riconoscimento professionale e personale per il direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria, Maurizio Carnazza, eletto nel direttivo regionale della Società Siciliana di Chirurgia. L'elezione del chirurgo Iblevo è avvenuta nel corso del congresso regionale svoltosi al Policlinico di Catania e testimonia gli alti livelli qualitativi raggiunti dall'Unità Operativa di Chirurgia Generale di Vittoria, mentre gratifica il lavoro costante e continua di tutta l'equipe chirurgica, del personale sanitario a quello infermieristico nel trattamento delle principali patologie chirurgiche con utilizzo delle più moderne tecnologie quali la chirurgia laparoscopica. La prestigiosa società scientifica dei cui vertici Carnazza è entrato a far parte e è nata ormai da più di mezzo secolo, ha al proprio interno la maggior parte dei chirurghi siciliani ospedaliari e universitari. Il direttivo è composto da nove chirurghi e nel prossimo triennio sarà preseduta dal professor Puleo, ordinario dell'Università degli Studi di Catania. Il dottor Carnazza ad oggi è il primo chirurgo della provincia di Ragusa che ne entra a far parte del direttivo regionale. Lo stesso ha manifestato soddisfazione e impegno futuro. Spero che il mio contributo a livello regionale, ha detto, possa far crescere la chirurgia di tutta la provincia di Ragusa e particolarmente dell'Iparino e migliorare sempre più l'offerta sanitaria della nostra azienda. Grazie a tutti.